Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta morbida a cioccolato fondente nocciole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono cioccolato fondente fuso, nocciole, mandorle, farina di tipo 00, burro fuso, zucchero, uova e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le nocciole e le mandorle e le facciamo tritare per 20 secondi da velocità 6 a velocità 10. Mettiamo da parte il tredo. Senza lavare il boccale polverizziamo lo zucchero per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo sul fondo del boccale con la spatola. Mettiamo le uova e le facciamo montare per 6 minuti a velocità 5. Aggiungiamo le nocciole e le mandorle tritate, la farina e la vanillina ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Aggiungiamo adesso il burro fuso, il cioccolato fuso, ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamolo in uno stampo del diametro di 20 centimetri ben imburrato. Cuocere la torta in forno preriscaldato statico a 190 gradi per 25 minuti. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta morbida, cioccolato fondente e nocciole. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori.